Ciao, oggi sono qua a parlarvi di una novità del 2021 ed è la coppetta mestruale Meluna Natural. Dunque tutti conosciamo la Meluna perché è stata la prima azienda a proporre una coppetta mestruale nell'astomero termoplastico. Questo materiale è di grado medicale e ha una caratteristica tutta sua che è che quando questa è all'interno del nostro corpo il nostro calore tende ad ammorbidire un po' il materiale, cosa che non accade con il silicone medicale. Meluna ha la sua coppetta in diverse altezze, lunghezze e anche diverse larghezze e tantissimi colori e anche morbidezze. Cosa ha di nuovo questa Meluna Natural? Ora ve lo spiego. Il TPE è un materiale che si può riciclare, però in fase di lavorazione, così come accade anche con il silicone medicale, quando un prodotto lo finiscono, poi fanno il controllo e qualcosa non va bene, va storto, è un prodotto che poi non può andare in commercio e non possono neanche riciclarlo e uno spreco va buttato via. Per cui devono fare molta attenzione che un prodotto finito sia perfetto in tutte le sue fasi di lavorazione. Quando accade qualche volta che qualcosa non va, anche nella produzione della Meluna, dovevano proprio scartarla. Nella fase del lockdown, dove siamo più chiusi, ci inventiamo un po' di idee, loro hanno pensato cosa possiamo fare per rendere un po' più sostenibile la nostra produzione. E siccome è un materiale che si può riciclare, loro hanno deciso di parte il prodotto che viene scartato, non buttarlo via ma riciclarlo. Quindi loro prendono magari quella coppetta che è venuta con qualche falla, la macinano tutta e il 25% di questo lo mescalano con il erastomeno termoplastico nuovo. E quindi hanno anche aggiunto delle particelle di una pianta. Alchimea, penso. Quindi queste particelle, loro sono famosi per fare questo tipo di lavorazione perché qua di fianco vi presento, vi faccio vedere per chi non la conosce, la loro coppetta soft e anche una classica che hanno dentro i glitter. Dunque questa coppetta nasce così, hanno un po' mescolato l'astomeno termoplastico riciclato, soltanto il 25%, hanno aggiunto delle particelle di una pianta e anche del materiale nuovo. Queste particelle qua all'interno e anche con questo bel colore un po' palido, a livello ottico aiutano anche quando la coppetta mestruale si inizia a scolorirsi oppure si macchia, rimane comunque un effetto ottico un po' camuflato. Vediamo come viene confezionata. Questa è la scatola, riceverete, adesso ne abbiamo noi soltanto nella taglia M e L. Questa è la sua scatola e all'interno troverete un sacchettino in cotone biologico e l'istruzione multilingue. E questo è tutto, alla prossima.